si è concluso un interminabile lunghissimo difficile mercato un mercato che però è stato anche esaltante perché poi si conclude con un gran numero di acquisti con tante operazioni realizzate dalla nostra inter un mercato in cui siamo spariamo subito tanto in gran parte il grande momento che atteso dopo la fine del mercato è quello del voto al mercato io non so se tu vuoi esprimerti in un voto io ho un mio giudizio poi allargherò il discorso sì il voto numerico lo butto lì poi anch'io approfondirò è otto il mio voto è otto ok vabbè non riusciamo ad andare in disaccordo io io mi sarei ok io mi colloco mi colloco sull'otto e adesso questo lo spieghiamo ribadendo come sempre che il voto al mercato poi non è garanzia di risultati a fine stagione perché non credo che se i risultati non arriveranno allora bisognerà dire eh però avevate dato otto al mercato perché il mercato secondo me va valutato sotto diversi aspetti in tanti hanno detto io valuterò se la rosa è più forte in tanti io valuterò se i nomi mi piacciono eccetera io il mercato dell'inter lo valuto sulla base di quelli che sono stati gli obiettivi richiesti a chi fa il mercato dell'inter gli obiettivi richiesti erano soprattutto tre rendere comunque la squadra forte e competitiva per gli obiettivi che sono stati fissati per questa stagione e mi sembra che questo obiettivo sia stato centrato almeno per la mia opinione l'altro obiettivo ovviamente era quello di abbassare il costo in maniera importante lo è stato fatto seguendo le richieste e reinvestendo di fatto impegnando tutte le risorse che sono state incassate e quindi è stata mantenuta anche questa promessa tra virgolette poi c'era l'obiettivo di abbassare l'età media della rosa un obiettivo che questo è stato centrato in parte perché si era partiti in quella direzione lì l'opera è stata portata avanti i numeri dicono oggettivamente che l'età media si è abbassata quindi i numeri dicono questo si poteva fare di più ci sono diversi profili comunque che sono all'ultima o alle ultime stagioni e quindi probabilmente questo processo verrà completato l'anno prossimo questo per me non è necessariamente un male in una stagione in cui l'inter si ritrova ad un passo da obiettivi sportivi che sono molto importanti anche per il prossimo futuro dell'inter abbiamo detto più volte qualificarsi la prossima champions league vorrà dire avere tanti ricavi in più e quindi devi farlo obbligatoriamente passare il turno di champions vorrà dire entrare nel prossimo mondiale per club e quello pure visibilità più soldi e quindi fare una rivoluzione totale che ti mette a rischio questi obiettivi qui proprio in questo momento per me sarebbe stato controproducente questo è la spiegazione del mio voto ci aggiungo un'altra cosa simo e poi ti lascio la parola riepiloghiamo un po anche tutto quello che è successo nel mercato ci sono stati dei momenti di sconforto degli errori dei piani che sono cambiati quindi è bene ricordare che il mercato non funziona come sui videogiochi dove dici io faccio questo vendo questo eccetera eccetera è un mercato in cui si fa parte di un sistema calcio di un sistema sempre più globale di un contesto come dicevo nella nostra ultima newsletter in cui sei condizionato per forza di cose da quello che c'è stato attorno e questo è stato un mercato molto difficile da decifrare soprattutto per tre fattori importanti l'entrata in scena prepotente dell'arabia saudita che è stata citata più volte anche da marotta come un elemento di cui capiremo tutti gli effetti tra un anno probabilmente comunque difficile ancora da prevedere c'è stato un netto cambio generazionale tra le figure professionali non solo dei giocatori con tanti che oggi ti dicono sì e poi di no ma si sono rotti diversi equilibri classici il caso samar si c'è un po lo rappresenta ma anche il caso taremi delle ultimissime ore ma in generale c'è stato un ricambio generazionale tra le figure professionali che stanno emergendo e poi terza cosa che molti sottovalutano questa è stata la prima sessione estiva di mercato piena completa al termine di una stagione uscita dagli effetti pandemici dagli effetti economici della pandemia che non sono ancora finiti perché anche i premi champions di quest'anno avranno una piccola riduzione proprio legati alla pandemia ma ci sono ancora gli effetti questo è il primo mercato che si fa in maniera tra virgolette libera dopo una stagione completa e tante squadre si sono profondamente rinnovate pensare che questi tre fattori non influiscano sull'inter che parte da una finale di champions league e dalle big oggi viene vista come una di quelle squadre che non deve sedersi al tavolo perché poi il cibo va spartito con un'altra società in più se un'altra si aggiunge e bisogna tenerne conto ecco ho allargato un po però per me era doveroso e ci tenevo adesso ti faccio tornare sull'inter voglio sapere la tua su questa estate no hai fatto bene perché hai detto tante cose di contesto appunto non sull'inter ma che poi indirettamente incidono anche sull'inter stessa a questo io aggiungo partendo con l'analisi sull'inter dicendo che l'inter è stata una delle squadre che probabilmente almeno in serie ama forse anche in europa che probabilmente ha fatto la rivoluzione più massiccia in termini anche solamente numerici cioè l'inter ha comprato 12 giocatori su una rosa che di solito ne conta poco più di 20 quindi vuol dire che hai cambiato tantissimi giocatori e anche solo ripeto per ragioni numeriche e non è facile riuscire a azzeccare tutti i colpi a far sì che tutti rendano come tu immagini e soprattutto a comprare tutte le prime scelte di questi tuoi colpi è praticamente impossibile riuscire nelle tue gerarchie a pescare il primo per ogni profilo perché sono tanti e poi succedono cose alla samardis o addirittura alla lukaku e quindi le cose cambiano però all'interno di un percorso che andava fatto perché comunque c'erano tanti giocatori in scadenza in la colletta tanti anche i giocatori come dicevamo che appartenevano anche al leadership che si sono volute cambiare nel nel torto nella ragione lo scopriremo l'inter ha fatto una grande rivoluzione e nonostante questo è riuscita a mantenere una rosa secondo me molto competitiva per la serie a e anche per la champions league secondo me non per arrivare in finale ma per fare un onesto girone e arrivare magari tra gli ottavi e i quarti e ridurre i costi perché ha ridotto i costi ed era importante fare anche questo e poi appunto come dicevi in parte ha anche calato l'età media che non è una cosa che fai di botto in un anno probabilmente però soprattutto in alcuni ruoli chiave lo hai fatto quindi in generale ti dico questo poi dopo dirò altre cose ma già solo per questo ti fa capire l'imponenza del lavoro che è stato fatto e che ripeto era difficile quindi questo è e ripercorrendo il mercato simon ci sono stati degli errori delle difficoltà mi sembra abbastanza evidente che il piano originale fosse quello di partire da un difensore a zero prima era nacio poi a spiriqueta per vari motivi sono saltati e investire pesantemente su lukaku lì c'era secondo me quel discorso forse si sarebbe investito una cifra anche superiore a quelle che erano le disponibilità comunque si sarebbe fatto un extra budget su di lui rischioso sul quale si ragionava in termini di risultato sportivo noi facciamo questo investimento molto oneroso su di lukaku perché pensiamo che sia quello intanto il più forte prendibile a quella cifra lì perché poi abbiamo visto come si è mosso il mercato e a quelle cifre lì di cui si stava parlando non è che si sia mosso di giocatore così forte di così che può spostare così almeno nei piani originali però c'è un ritorno dell'investimento in termini di risultato che per me è più o meno garantito questo era il ragionamento le cose poi sono andate diversamente diciamo che forse non tutti i mali vengono per nuocere perché poi il mercato si è completato in una maniera interessante poi ribediamo sarà il mercato a dover parlare è chiaro che questa è una delle critiche che si può muovere alla dirigenza a chi ha fatto il mercato e a questa estate di mercato l'aver corso dietro a lukaku a questa operazione tanto a lungo e il non essere stati pronti rapidi e reattivi a prevedere i piani b e a prevedere le operazioni alternative si è andati un pochino lunghi con le varie operazioni soprattutto col cambio di rotta dopo questi primi affari questa è secondo me una delle cose che rimarrà di questa stata una delle critiche che si muoverà su questo mercato qui corretto io poi aggiungo anche questo quando mi si dice e mi si chiede com'è il mercato dell'inter finora quando magari sei a metà luglio o a metà agosto io dico sempre aspettiamo la fine perché non si può giudicare un dipinto quando è a tre quarti per quanto magari bello brutto non sai mai come va a finire fino in fondo e infatti nel momento in cui l'inter appunto diciamo perde lukaku e ti dà la sensazione cosa che effettivamente non credo fosse solo una sensazione di non avere dei piani b concreti e vivi e si fa un attimino prendere alla sprovvista sul momento dici è un disastro poi però finisce il mercato alla fine in qualche modo ne esci io sfido chiunque sinceramente a pensare e a immaginare che lukaku potesse fare una roba del genere dopo quello che ha detto e fatto prima nel passaggio inter celsi e celsi inter quindi comunque c'è marotta ausilio sono sono manager ma sono umani non è che hanno l'oniscenza di sapere tutto quindi su quello una minima giustificazione gliela do e poi come dicevo anche in altri casi il mercato lo valuto nel complesso perché molte operazioni vanno in coppia vanno in trio vanno in quattro e io mi ricordo benissimo di aver parlato per esempio di arnautovic dicendo se tu mi chiudi l'attacco con arnautovic senza piazzare correa e ai tempi si parlava ancora dei demirale dei toloi io sono estremamente preoccupato alla fine cosa hai fatto hai preso arnautovic pagandolo magari anche tanto hai piazzato correa prendendo sanchez che al di là dei costi a livello tecnico è cento volte più forte e hai chiuso con pavar allora è chiaro che la prospettiva sull'arnautovic cambia se il ragionamento iniziale era questo quindi qualche errore sicuramente c'è stato senza dubbio però poi guardandolo nel complesso alcune cose si ridimensionano secondo me ecco infatti ne approfitto allora per mostrare quella che è la rosa perché poi tu parlavi giustamente dei 12 acquisti io ne aggiungo uno sempre al conteggio che è quello di acervi perché comunque era in prestito con diritto di riscatto e il diritto di riscatto è stato esercitato quindi poi è stato pagato la rosa dell'inter oggi io la vedo con sommer audero tra i pali e dietro c'è di gennaro pavar d'armiano sulla destra devrai a cerbi bastoni bisse che poi vedremo bisse che effettivamente come andrà dunfri squadrado barella frattesi c'è la nogula slani michi tarjan sensi classen arrivato nell'ultimo giorno di mercato a zero ingaggio molto contenuto e decreto crescita una scommessa che male che ti va l'hai pareggiata per quello che è l'operazione quindi può andare solo bene se già ti fa un gol te lo sei ripagato di marco carlos augusto turam arnautovic lautaro sanchez queste sono le coppie l'inter alla fine di tutto ha costruito una squadra che per chi giudica il mercato dal punto di vista economico ha abbassato i costi e ha riportato questa squadra verso la strada della sostenibilità perché si dice sempre è però marotta ausilio hanno fatto spendere un sacco di soldi hanno fatto perdere un sacco di soldi siamo continuamente in perdita con queste operazioni grazie anche al lavoro fatto dalle altre aree della società quest'anno l'inter può puntare al pareggio di bilancio quindi viene meno anche questa cosa qua dal punto di vista tecnico è una squadra che può schierare due formazioni di fatto ed essere credibile in entrambe le formazioni qualcuno rimarrà fuori dalla lista champions per i paletti che conosciamo probabilmente sensi non so se a sorpresa eventualmente anche anche bisac però o uno dei due probabilmente però simo dal punto di vista competitivo della competitività forse il napoli al termine di questo mercato rimane una squadra molto forte con l'allenatore ancora da valutare fino in fondo da capire se sarà facile per loro confermarsi la juventus guadagna qualche colpo in più qualche punto in più col fatto che avrà solo il campionato il milan si è allestito bene però io mi guardo la mia inter e la mia inter ha un potenziale in termini di gol almeno simile a quello dell'anno scorso almeno simile potremmo aver perso qualcosa in attacco centrocampo e difesa probabilmente hanno qualcosa in più soprattutto il centrocampo in difesa poi pavara andava preso un grande difensore andava preso andava preso perché il gol sono quelli ma l'anno scorso se abbiamo perso terreno e anche per i 42 gol che abbiamo subito secondo me perché poi anche prendere gol ti destabilizza ti cambia tante cose quindi anche quello va considerato e quindi io guardo l'inter e l'inter per gli obiettivi che si è prefissata cioè superare il giro di champions lottare fino all'ultimo per lo scudetto e provarci per me c'è c'è senza dubbio e c'è anche perché rimanendo un attimo alla serie a nessuna squadra nessuna squadra ha certezze totali definitive nessuna a partire dal napoli che ha cambiato il tecnico quindi banalmente anche solo per quello comunque le discussioni li puoi avere quindi così come qualche dubbio c'è la linter qualche dubbio ce l'hanno praticamente tutte le altre con però l'aggiunta come dicevi di tutto il discorso che hai fatto io ci dico altre due cose la prima ci ho scherzato molto la ripeto anche adesso l'inter di quest'anno non ha più bidoni cioè non ha più quel giocatore il bidone nel mio linguaggio è quel giocatore che quando sai che gioca ti metti le mani nei capelli abbiamo avuto Correa Gagliardini negli ultimi due anni Andanovic non ci sono più quest'anno ogni giocatore che ti entra o è forte o magari è un giovane tipo Bisse che quindi avrà visto però sulla carta lo prendi come un giovane di belle speranze e se tu hai cinque cambi e non ne hai due da bruciarti con Correa Gagliardini sono già due giocatori in più che ad oggi peraltro sono anche Sanchez in attacco e vedi tu se classano Sensi a centrocampo direi che il livello si alza e poi un'altra cosa interessante secondo me che ci ha preso un po' la sprovvista ma fino a non dico tanto fino a sei mesi fa o anche l'anno scorso era assolutamente impensabile che l'inter aggiungesse una pedina in più in un reparto numericamente completo tenendosi in rosa una barra 2 1 barra 2 esuberi o mezzi esuberi mi riferisco a Sensi e soprattutto a Goumet prima di portare a casa questa pedina e ad oggi ti ritrovi con un centrocampo in sovranumero cioè fino a due anni fa era impensabile massimo dove avere una riserva per ogni ruolo e alcuni erano addirittura coperti dal tutto fare a darmi anche tra un po' lo mettevano anche come eventuale riserva del portiere oggi ne hai sette a centrocampo cioè ti prendi il lusso di dire non so se Sensi mi regge prendo anche classe porca misera mica roba da poco anche questa secondo me per lo meno giusto e Simo questa clip inevitabilmente sarà lunga però bisogna commentare tante cose di questo mercato perché questa è un'analisi totale sul mercato estivo e aggiungo altre considerazioni sparse e poi aggiungi le tue io sottolineo anche lo status raggiunto con la finale di Champions se ti permette di fare un colpo come Pavar che per me è il colpo più importante dell'estate in Italia non è un attaccante quindi inevitabilmente finisce un pochino dietro nelle retrovie però un giocatore nel giro della nazionale campione del mondo nel 2018 di fatto un giocatore importante del Bayern perché l'anno scorso ha giocato più dell'ottanta per cento delle partite con un minutaggio altissimo io di colpi così in serie A ne ho visti pochi sinceramente soprattutto pagato a titolo definitivo preso con un giocatore che ha spinto fortemente per arrivare ma io ritengo sottovalutati anche altri acquisti soprattutto quello di Turam e quello di Frattesi in particolar modo che sono due aggiunte non da poco soprattutto Frattesi in un reparto in cui quel tipo di investimento sarebbe da fare su un titolare potenzialmente oggi Frattesi parte non con l'obbligo di essere subito titolare ma con la possibilità di crescere con calma e di crescere comunque alle spalle di un reparto rodato questi tre colpi soprattutto secondo me sono estremamente estremamente sottovalutati poi per me un altro tema molto importante di questo mercato è il sottolineare che si è scelto di dare molta fiducia ad Inzaghi e visto che l'anno scorso la fiducia ad Inzaghi soprattutto da parte della dirigenza è stata spesso messa in discussione mi sembra di poter dire che quest'anno questo mercato almeno per come è andato ci fa percepire una sintonia tra le parti una dirigenza che si muove in accordo con Inzaghi per me è giusto che l'allenatore indichi dei profili ma dall'altro lato i dirigenti devono scegliere i nomi per me come tipo di operazione come portare avanti il mercato e mi sembra alla fine di poter dire che questa rosa rispecchia le scelte di Simone Inzaghi e la filosofia di gioco di Simone Inzaghi si è molto dibattuto anche nelle ultime ore sul manca un centrocampista fisico ma manca perché piace a noi o manca perché piace a Inzaghi tanti hanno detto è però Inzaghi voleva Milinkovic Savic quindi è ovvio che manca quel giocatore lì e allora qui io ribadisco ma voleva un giocatore forte fisicamente come Milinkovic Savic o voleva Milinkovic Savic che non è solo quello una volta sfumato Milinkovic Savic per tutti i motivi che conosciamo la direzione è cambiata si è provato a prendere Samarsic Classen come colpo di completamento è un giocatore che è più simile a quello lì piuttosto che ad un Don Belè e ad altri di cui si è parlato quindi mi sembra di poter dire che si è scelto di andare in direzione di Inzaghi e adesso ovviamente Inzaghi secondo me avrà da un lato non l'obbligo di vincere lo scudetto perché io non ritengo eh di diciamo l'Inter obbligata a vincere lo scudetto allo stesso tempo però non gli do nemmeno quell'alibi che ho visto dare da tanti nel dire eh il mercato è già stato gestito male la rosa non è troppo forte quindi se anche non si vince o comunque se si fa male non è colpa di Inzaghi sarà l'ultimo responsabile io questo alibi personalmente non glielo do no io come sapete anche tutti i nostri i nostri amici sono da tempo uno che comunque sempre espresso diciamo complimenti e gradisco Inzaghi come allenatore questa cosa che tu hai detto prima lo avevo detta anch'io in una fase intermedia del mercato in cui come ti dicevo prima non c'erano certe prospettive ad oggi a mercato chiuso sono assolutamente d'accordo con te cioè come così come si vince tutti si perde tutti ma questo in questo caso Inzaghi comunque la rosa adesso ce l'ha e credo che lui non abbia problemi a cioè anzi sia contento altro che ha paura depressioni per me lui non vedeva l'ora di avere l'esterno gli esterni che piacciono a lui come le caratteristiche di quadrado e carlos augusto di avere un attaccante come turam che secondo me può fare crescere un braccetto come pavar non ne parliamo quindi da questo punto di vista è tranquillo e riparto da questo per chiudere il mio la mia analisi su Inzaghi l'avevo scritto nel club qualche giorno fa magari è una cosa che noto solo io e che non ha importanza però l'anno scorso io dicevo tolto lecce inter prima di campionato io non ho quasi mai visto Inzaghi nella versione assatanato in panchina e soprattutto nella versione primo tifoso quando segna l'inter quest'anno contro il Monza e contro il Cagliari io percepisco Inzaghi percepisco Inzaghi del primo anno che invece era così arrivava con entusiasmo dalla Lazio e questo mi rende contento perché secondo me anche questo può fare la differenza nel primo anno risultanza gol di Sanchez con la Juve un paio di Inzaghi Cam quella in cui si era fatto male nell'andare a correre era uno spettacolo secondo me l'anno scorso si è visto poco e per come lo vedo io non è un caso quest'anno potrebbe ripartire quindi magari con maggiore entusiasmo anche lui e chiudo facendo notare un'ultima cosa sulla mia analisi visto che poi i tifosi spesso purtroppo anche dell'Inter stessa sono i primi a dire facciamo schifo nessuno è Zang nessuno ci vuole l'Inter compra 12 giocatori di questi c'è un campione di tutto praticamente Pavard che fa la guerra col Bayern Monaco perché vuole l'Inter c'è un altro giocatore che viene sempre dal Bayern Monaco come Sommer che ha una gran carriera che dice voglio andare voglio andare voglio andare voglio andare e viene all'Inter due giocatori non ancora a quei livelli ma potenzialmente forti Carlos Augusto e Frattesi che i loro dirigenti Galliani e anche mi pare Carnevali o Dionisi dicono no no loro proprio ci hanno chiesto volevano l'Inter e hanno spinto molto Sanchez rifiuta l'Arabia il Messico l'Argentina mille offerte da come dicevano per aspettare l'Inter senza essere certo di andarci perché dipendeva da Correa poi c'era Arnautovic non sono cose banali anche queste soprattutto per i primi nomi che ho detto cioè quando noi magari per primi siamo qui a dire porca miseria però non funziona nulla poi magari da altre parti anche giocatori importanti invece non vedono l'ora di venire da noi quindi teniamo conto anche di questo a questi Simo per fare l'avvocato del diavolo comunque hanno fatto da contraltare anche altri che invece hanno cambiato idea quindi qualcuno da Lukaku al caso al caso Scamacca anche ma anche al caso Samartic che hanno fatto molto discutere su Samartic tra l'altro le cose sono andate un po' così quello sicuramente sarà un altro neo di questa di questa estate però ripeto visto che parlavo di di contesto sul caso Samartic si è speso fiumi si sono spesi fiumi di inchiostro di parole di video chiacchiere eccetera vorrei vedere se il caso Taremi sarà trattato allo stesso modo perché mi sembra che il Milan fantastico scintillante imbattibile del miglior dirigente della storia del calcio tra Taremi, Rafamir, Daka e poi alla fine Jovic ha vissuto delle ore che andrebbero un pochettino analizzate in un mercato in cui anche loro hanno provato a prendere Turam anche loro hanno provato a prendere Frattesi e invece li vedranno dall'altra parte tra due settimane quindi vedremo se il trattamento mediatico sarà lo stesso così come noi siamo stati critici quando c'era da essere critici vedremo in questo senso per chiudere poi dicevo Simo nell'ottica di Inzaghi più al centro di quest'Inter più responsabilizzato anche è un Inter che cambia negli assi portanti ha perso delle fonti di gioco da Onana a Brozovic a Dzeko sono cambiate diverse cose però credo che sia caduta in piedi in porta poi dovrà convincere del tutto ma come scelta per me quella di Sommer è una scelta logica si passa ad un Inter che ha una nuova spina dorsale con bastoni Barella e Lautaro chiamati a fare ancora di più in termini di prendersi il carico dell'Inter c'è una svolta pesante su Ceranoglu secondo me e il fatto che Marotta confermi in questi momenti in queste ore che c'era stata un'offerta araba che è stata respinta è un messaggio importante di aver deciso di vendere Brozovic di privarsi di un giocatore così caratterizzante come Brozovic per puntare forte su un giocatore che ti caratterizza in maniera molto diversa e molto più in una direzione che scopriremo piano piano e questo messaggio su Ceranoglu per me è importante e i primi segnali che stiamo vedendo in campo secondo me sono molto interessanti in quest'ottica per cui questa è un'altra considerazione che volevo fare sul mercato e ti lascio concludere Simo ci sarebbe anche il tema dell'offerta mimata di questo mantra che è stato sui social ma su quello sorvoliamo più o meno abbiamo analizzato tutto non so se è rimasto fuori qualcosa di questo mercato no no mi sembra poi questo racconto di queste offerte mimate che poi se dicono i tifosi delle altre squadre vabbè lo fanno anche un po' per provocare se dicono i tuoi poi insomma alla fine sono stati zettiti dalla realtà no io volevo ripartire giusto con un flash da quest'ultimo tema che hai dato anche perché mi piace citare anche il nostro Pasquale che è abbonato al club di Passione Inter da tantissimo tempo che ricordo bene nel club anche nei momenti più bui di questo mercato in cui io stesso mi ero fatto un po' prendere dal pessimismo e dalla paura ribadiva sempre ma io vedo un Inter che comunque ha più riserve valide e soprattutto mi ricordo che diceva è un Inter che ha dei nuovi leader e i nuovi giocatori sembrano diciamo essersi già fatti prendere da questi nuovi leader Lautaro, Barella, Bastoni, quelli che citavi prima e in effetti forse hai avuto ragione per carità è presto siamo solo all'1 settembre però l'entusiasmo che percepisco l'entusiasmo misto a consapevolezza che io francamente ho percepito in queste prime due partite mi danno quest'idea poi magari già da domenica smentiamo tutti e cominciamo a perdere ogni partita però le prime impressioni che ho avuto sono queste e quindi nel momento in cui tu cambi un insieme di giocatori che erano leader, che erano esperti e che erano qui da tanto tempo perché Andanovic era qui da dieci anni Skriniar lo era da una vita non è facile già di base fare questo se tu trovi già dei nuovi leader e il meccanismo ricomincia a funzionare subito insomma anche questa è una cosa da lodare per certi versi ripeto se la squadra fa gruppo nel modo giusto accetta nella maniera giusta i nuovi leader e Inzaghi continua su quella strada che ho indicato prima con il discorso anche delle esultanze che mi trasmettono un tecnico più entusiasta per me le porte per una bella stagione si aprono e noi tifosi dovremo fare la nostra parte sostenendoli e non esagerando come ogni volta nelle critiche al primo pareggio chiudo con questo piccolo messaggio io chiudo invece con la mia frase di questo mercato che ribadisco anche in questa sede fino a un paio di settimane fa in molti si discuteva sì però l'Inter è più debole però l'Inter si è indebolita io penso che per come si sia chiuso questo mercato ci sono delle incognite dal punto di vista fisico incognite che valgono per tutti perché se mi dite eh se si fa male Lautaro siamo messi male ma io non credo che se al Napoli si fa male o si menna siano comunque così diciamo sicuri di vincere lo scudetto di raggiungere gli stessi obiettivi che avrebbero raggiunto con Osimena quindi questo è un discorso che vale per tutti di sicuro noi abbiamo delle incognite eh ma di sicuro non si può più parlare di un Inter indebolita secondo me alla chiusura di questo mercato si deve necessariamente parlare di un Inter diversa con fonti di gioco diverse con del leadership cambiate ma comunque forte o almeno credibile per gli obiettivi che sono stati fissati quindi questa è la mia analisi tra poco scopriremo poi anche se questo mercato sarà propedeutico anche ad un cambio di proprietà se è stato abbassati i costi per renderla più sostenibile o per renderla più appetibile lo scopriremo tra qualche mese nel frattempo parola al campo che sarà il giudice ultimo di tutte queste operazioni fermo restando la premessa che abbiamo fatto all'inizio sulle valutazioni da fare sul mercato sul come valutare il mercato nei commenti fateci sapere questa era un'analisi totale ci siamo presi del tempo però c'era tantissimo di cui parlare mi sembrava giusto dare ampio spazio a questo tipo di approfondimento contestualizzando il tutto nei commenti fateci sapere che cosa ne pensate se siete d'accordo con la nostra analisi e soprattutto con il nostro voto voglio leggere anche il vostro e lo scrivete nei commenti e poi da adesso inizia davvero la stagione quella che ci piace e quindi www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra splendida community del club di Passione Inter vi aspettiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti